Il futuro è libero. La Libertà a Napoli va verso una nuova organizzazione, una organizzazione di partito, diciamo così, secondo il concetto classico. Ne parliamo con Ugo Chirico, segretario cittadino del partito. Ecco, c'è l'Assemblea cittadina. Di cosa discuterete? Allora, Futura Libertà a Napoli ha deciso di darsi un'organizzazione, quindi sono stati nominati dei dipartimenti, creati dei dipartimenti con delle persone che si occuperanno di discutere dei problemi reali della gente. Quindi oggi noi nell'Assemblea cittadina ci riuniamo intorno ad un tavolo, ascolteremo le proposte di tutti e poi elaboreremo un documento programmatico che serva non solo per il partito ma per l'intera città. Si parla di Napoli ma l'attenzione di molti è rivolta alla vicenda politica nazionale. C'è una singolare maggioranza che sostiene il governo Monti. In sostanza si tratta di una maggioranza numerica non politica. Sono tre isole, il centro-sinistra, usando la vecchia categoria, il centro e il centro-destra. Riuscirà con questa maggioranza Monti ad andare avanti? Ma io credo di sì, anche perché le forze politiche che oggi sedono in Parlamento gli hanno già conferito la fiducia. E sono convinto che andranno avanti su questo passo, su questo sentiero. Anche perché, diciamoci la verità, credo che sia venuto proprio il momento che le forze politiche si sedano tutte intorno a un tavolo e finalmente si confrontino per risolvere i problemi di questo Paese e non per i propri interessi. È tendenza piuttosto generalizzata a ritenere superate le categorie di destra e di sinistra. In sostanza sembra proprio essere così. Più che destra e sinistra sembrano emergere due sensibilità. Le sensibilità dei signori io e le sensibilità dei signori noi. È così? Sì, questa pure può essere una possibile analisi. Nel senso che a chi in questi anni ha proposto un modello dell'io, del partito, della persona, adesso si propone invece un modo di fare politica attento alle vere questioni che sono ovviamente in questo momento quelle economiche, quelle del lavoro, quelle sociali, quelle di ordine pubblico perché sono convinto che questo è stato un autunno caldo e l'inverno potrebbe essere ancora più caldo. Guardiamo gli scenari futuri. Tempo fa Italo Bocchino ha gettato il sasso nello stagno, ipotizzando un governo da future libertà al Partito Democratico. Bocchino è stato, fu censurato probabilmente perché ha sbagliato la tempistica, ma questa ipotesi agli occhi di molti sembra molto reale. Sì, però va anche detto che in quel caso Italo Bocchino aveva fatto uno scenario con varie ipotesi, aveva prospettato anche una, che era quella a cui tu facevi riferimento col PD. Ma in verità, come stesso il Presidente Fini, ha dichiarato i tempi non sono maturi e poi comunque un'alleanza con il PD è veramente lontana da avvenire. Oggi c'è un'esigenza diversa in Parlamento e quindi ci si siede per risolvere i problemi degli italiani. Ma un domani che ci saranno le elezioni nel 2013, a quanto sembra, c'è la scadenza naturale del mandato parlamentare, ognuno poi credo prenderà la sua strada. Si discute in questi giorni anche sulla sollecitazione giunta dal Presidente Napolitano a proposito del riconoscimento del diritto di cittadinanza ai figli degli immigrati. Un problema che era già stato posto da Gianfranco Fini. Sì, è stato posto da Gianfranco Fini perché il cosiddetto Ius Soli è un diritto per i neonati, coloro che nascono sul territorio italiano, a diventare italiani. Che non è così perché la legge non lo consentirebbe, salvo però come lo stesso Presidente Fini indicava con una serie di accortenze, nel senso che non è possibile allargare a dismisura il tutto. Quindi bisogna andarci cauti, bisogna però anche capire quali sono le reali esigenze di chi fugge da un paese e viene qui per trovare democrazia, per trovare lavoro. Ecco, futuro e libertà, le origini si è proposto come soggetto politico, ma anche come movimento culturale. Ancora vivo il dibattito culturale all'interno del partito? Il dibattito culturale ancora vivo, lo dimostra e lo testimona il fatto che c'è una rivista, come esempio il Futurista, che non è finanziata dai partiti, ma è autofinanziata dai lettori, quindi con gli abbonamenti, che fa dibattito e crea anche sulla rete, su internet, su tutti i mezzi di comunicazione, oggi a disposizione degli utenti e dei cittadini, un vero dibattito culturale che anima anche le scelte politiche di Futuro e Libertà. Ecco, la informazione è Futuro e Libertà, al di là del Futurista, Futuro e Libertà appare disarmata. Futurista è un bel giornale, insomma, un bel laboratorio culturale. Sì, no, assolutamente, anzi, dobbiamo ringraziare Filippo Rossi e tutti gli amici suoi redattori che in questi mesi gli hanno dato una mano a creare quello che oggi appunto è anche un luogo di confronto all'interno del partito, un luogo di confronto culturale, come tu stesso prima sottolineavi, che aiuta in determinati casi anche la crescita di un partito politico, perché senza il movimento culturale alle spalle il partito politico muore. Rimane solo una sterile contrapposizione interna e basta. Ecco, aperti al dialogo, ha più volte detto, fini con quanti hanno a cuore i temi della legalità e della solidarietà? Sì, questo senz'altro. Purtroppo noi in questo Paese abbiamo visto degli anni in cui il tema della legalità non trovava tutti d'accordo, anzi, purtroppo divideva. Dove c'erano partiti o responsabili nazionali di partiti che ritenevano che personaggi legati alla mafia fossero da considerare eroi. Noi non crediamo che sia questo ovviamente il sentiero da percorrere, chiediamo che la politica debba mettere in campo tutto quello che è possibile per risolvere il problema della criminalità e la lotta contro l'illegalità e se il principio della legalità è un principio vero deve essere condiviso da tutte le parti politiche e da tutte le parti sociali. Restiamo ancora su alcune affermazioni di Fini. Più volte Fini ha fatto riferimento a proposito dei big politici del secolo scorso, ha citato mettendo l'insieme Almirante, Moro e Berlinguer. Può significare qualcosa in prospettiva futura? Non credo che la citazione sia stata fatta soprattutto per la levatura morale che avevano questi big. Erano big che giravano a piedi, non avevano auto blu, erano persone che incontravano il popolo e gli stringevano la mano. E sicuramente se li paragoniamo agli ultimi leader politici del Parlamento, in primis il Premier, è chiaro che il paragone stride, è molto stridente. Poi se, come dicevo prima, ci si siede intorno a un tavolo, anche con persone che hanno provenienze culturali e valore... Premier Berlusconi, parliamo. Si riferiva a Berlusconi, ovviamente, perché adesso abbiamo mondi che sicuramente è l'antitesi di Berlusconi dal punto di vista del comportamento etico e sociale. No, dicevo, se chiediamo però alle forze politiche sane di mettersi intorno a un tavolo, io non ci vendo niente animale, anzi, dovrebbe aiutare la crescita del Paese, al di là della stereotipata differenza e divisione fra sinistra e destra. Torniamo alla vicenda napoletana. In Consiglio Comunale è stato costituito il coordinamento del Terzo Polo. Ha annunciato un'opposizione, diciamo, costruttiva. Sì, che poi in realtà già stava avvenendo, ovviamente, dal momento elettorale, perché ricordiamo che il Terzo Polo qui si è presentato unito con la candidatura del Professore Pasquino e subito dopo si è messo a lavorare. Quindi i gruppi di future libertà ed Udc che sono rappresentati in Comune oggi hanno deciso di coordinarsi perché in Comune ci sia, dal momento del voto, una sola voce. Ed è questo il passaggio utile che bisogna fare in tutte e anche le municipalità, in tutti i consessi dove future libertà e l'Udc sono rappresentati, perché è utile che ci sia un'unica voce, un'unica espressione dopo un confronto sereno con gli alleati. Molti hanno sospeso il giudizio sull'operato dell'Aggiunta De Magistris. Qual è il giudizio del Terzo Polo e di future libertà in particolare? Io credo che De Magistris abbia commesso in questi mesi un errore, cioè quello di promettere alla cittadinanza ciò che egli stesso sapeva non sarebbe stato facile realizzare. In primis dalla raccolta differenziata che vediamo è ferma intorno al 20%, invece lui aveva promesso di farla arrivare al 70%. Va detto però dalla parte sua che ha rappresentato sicuramente un rinnovamento rispetto a quello che c'era prima e sicuramente rispetto alla giunta di Ervolino che costituisce una grande, grandissima novità. Bene, in bocca al lupo, a voi tutti grazie per la cortese. Attenzione, traquino politico della Campania, come sempre, tornerà domani alla stessa ora.